bene grazie grazie dell'invito bentrovati allora vi propongo un cammino abbastanza sostenuto come ritmo in un'ora cerco di dare le immagini diciamo del cammino di comunione di corresponsabilità nella chiesa appunto che ha come suo fulcro il passaggio conciliare ho voluto sottotitolare il mio intervento ecclesiologia di comunione e diverse forme vocazionali nella chiesa dal concilio all'evangelii gaudium juvenescit ecclesia che è il documento uscito pochi mesi fa proprio sui carismi nella chiesa allora diciamo lo scopo ultimo di questo intervento è cercare di delineare qual è la figura del soggetto educativo dal punto di vista ecclesiologico quindi non dal punto di vista propriamente educativo pastorale che appunto sarà affrontato da altri mentre la mia preoccupazione è quella di fare emergere la comunione ecclesiale come l'autentico soggetto educativo nella chiesa una comunione fatta di forme vocazionali differenti che possono costituire un unico soggetto vocazionale laddove appunto ci si coglie dentro una ecclesiologia di comunione un'ecclesiologia di popolo questa è diciamo la tesi fondamentale del mio intervento siccome il tempo a disposizione è molto poco diciamo cerco di costruire questa cosa attraverso diciamo un po' un percorso storico quindi non farò una parte storica e sistematica ma tocco diciamo nella storia dal concilio ad oggi facendo poi qualche fuga all'indietro per capire bene che cosa realmente è successo e da qui dovrebbe risultare ecco così l'immagine di una del soggetto educativo come una comunione di vocazioni diverse questa in sintesi un po' la proposta allora avete già ricevuto la scheda mi sembra con i punti io seguirò quei punti anche se qualcuno lo farò veramente in modo molto veloce poi vi lascerò le slide che contengono molte citazioni soprattutto di documenti della chiesa su questo tema se avrete voglia e interesse potrete andare a riprendere con più calma i testi che ora richiamerò così molto velocemente allora il primo tema è diciamo l'urgenza propriamente della questione formativa e l'urgenza di cogliere il soggetto adeguato dell'educazione cristiana della trasmissione della fede e della educazione cristiana parto con il volto del beato paolo sesto perché in qualche modo è stato il papa che ha colto prima di molti altri la questione che era in gioco nella modernità mettendo in evidenza appunto il grande compito educativo per la chiesa ecco una prima riflessione la divisione tra fede vita tra vangelo e culture la sua ricaduta a livello educativo allora qui c'è questo famoso passaggio di evangeli nunziandi al numero 20 dove si dice che il dramma della nostra epoca è una rottura la rottura tra il vangelo e la cultura ovviamente qui papa paolo sesto non intende come cultura qualche cosa di libresco ma esattamente diciamo il modo di intendere l'esistenza quella quell'insieme di valori e di riferimenti che costituiscono l'anima di un popolo di una realtà lui constata diciamo siamo nell'immediato post concilio questa divisione profonda tra il vangelo e la cultura una sorta di estraneità di separazione occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura cioè la capacità del vangelo di ridirsi nelle categorie proprie con cui un popolo si pensa più esattamente delle culture esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella ma questo incontro non si produrrà se la buona novella non è proclamata a dire il vero benedetto sedicesimo nel 2009 ebbe l'occasione di richiamare dei testi di paolo sesto che fanno percepire la gravità del problema ancora negli anni 30 pensate a che espressioni per esempio nel 1931 scriveva voglio che la mia vita sia una testimonianza alla verità intendo per testimonianza la custodia la ricerca la professione della verità e ancora nel campo profano gli uomini di pensiero anche forse specialmente in italia non pensano nulla di cristo nel campo profano gli uomini non pensano nulla di cristo egli è un ignoto nel 1933 lo sta dicendo è un dimenticato un assente in gran parte della cultura contemporanea l'idea è la fede non intercetta più la vita la fede non è più capace di comunicarsi dentro la cultura che organizza il pensiero la concezione la vita del popolo conclude benedetto sedicesimo pensando a paolo sesto l'educatore montini studente sacerdote vescovo e papa avvertì sempre la necessità di una presenza cristiana qualificata nel mondo della cultura dell'arte del sociale appunto del mondo dell'educazione una presenza radicata nella verità di cristo e al contempo stesso attenta all'uomo e le sue esigenze vitali in particolare è benedetto sedicesimo intorno al 2007 in questi anni a mettere in evidenza come questa profonda divisione tra la fede e la vita tra il vangelo e la cultura abbia reso l'esperienza educativa profondamente problematica quando dice l'esperienza quotidiana ci dice che l'educare alla fede proprio oggi è un'impresa non facile oggi in realtà ogni opera di educazione sembra diventare sempre più ardua e precaria si parla perciò di una grande emergenza educativa della crescente difficoltà che si incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i valori base dell'esistenza di un retto comportamento e ancora più specificatamente dice questo si manifesta nel rischio di abdicare alla responsabilità educativa l'educazione tende ampiamente a ridursi ad una trasmissione di determinate abilità capacità di fare mentre si cerca di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni colmandole di oggetti di consumo e di gratificazioni effimere così sia i genitori sia gli insegnanti sono facilmente tentati di abdicare ai propri compiti educativi e di non comprendere nemmeno più quale sia il loro ruolo o meglio la missione ad essi affidata allora qui possiamo dire in sintesi l'epoca moderna e post moderna già di per sé solleva una certa obiezione all'idea stessa della educazione della comunicazione vitale di punti di riferimento in forza del concetto di libertà autoreferente che viene a imporsi soprattutto nel post moderno quindi la stessa idea di educazione rischia di essere sentita come invasiva rispetto ad un soggetto che deve invece decidersi autonomamente l'altro fattore è la grande frammentazione dell'esistenza quotidiana pensate ai ragazzi i giovani oggi nella stessa giornata quanti ambiti diversi debbano incontrare famiglia scuola oratorio palestra lingua tantissimi altri ambienti deve passare attraverso una sorta di frammentarietà di ambienti nei quali faticano a trovare l'elemento unitario che possa far crescere appunto in modo armonico la propria esistenza quindi la frammentazione dell'esistenza complica l'idea dell'educazione come introduzione alla realtà secondo un senso secondo un valore capace di unire i diversi fattori e quindi l'importanza di comunità educative pastorali che chiede il rapporto tra tutti coloro che hanno a cuore l'educazione delle nuove generazioni la comunione tra le persone implicate nell'educazione ecco qui riprendo l'idea fondamentale che guida questo mio intervento la comunione di vocazioni diverse come l'unico soggetto adeguato ad un'esperienza educativa e qui diciamo si può anche cogliere subito ancora in un intervento di paolo sesto nelle vangeli nunziandi al numero 41 diciamo l'elemento fondamentale che deve caratterizzare questo soggetto comunionale di educazione l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri e se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni quindi è la capacità educativa di un soggetto comunionale che parla non per imperativi ma che parla attraverso l'osmosi della testimonianza vitale facciamo adesso un pochino un passo indietro molto veloce sulla pesante eredità moderna all'interno dell'esperienza cristiana che si può chiamare la separazione tra diverse forme di vita cristiana tenete in mente l'ipotesi fondamentale chi educa è un soggetto di comunione tra forme vocazionali diverse il grande problema della modernità è la divisione all'interno di questi diversi soggetti che è un po' proprio il portato della modernità che consegna alla chiesa anche all'interno della chiesa una relazione problematica tra le diverse figure vocazionali sacerdote la famiglia il laico il religioso questa è la pesante eredità che quindi rende complicato complicata l'edificazione di un soggetto comunità comunitario comunionale tra forme diverse il problema lo faccio velocissima è all'inizio dell'epoca moderna con la perdita dell'unità del soggetto educativo qual è diciamo il detonatore il detonatore è lo scontro tra la riforma protestante e la riforma del concilio di trento a questo proposito noi stiamo ricordando proprio in questo periodo i i cinquecento anni della riforma si mettono a tema in genere le grandi questioni sollevate da lutero intorno al tema della sola grazia sulla scrittura e sulla fide spesso però ci si dimentica che lo scontro reale avviene esattamente a livello vocazionale sulle questioni vocazionali cioè di fatto la posizione di lutero proprio perché assolutizza diciamo il principio della grazia rispetto alla libertà della fede rispetto alla ragione della scrittura rispetto alla tradizione cioè di fatto afferma un soggetto ecclesiale che si esaurisce nella figura del battesimo per cui non riconosce dignità vocazionale alla vocazione presbiterale e alla vocazione della vita consacrata anche la stessa realtà del matrimonio come sappiamo non viene riconosciuta nella sua identità sacramentale ma semplicemente con una istituzione di fatto nella quale la chiesa di per sé non dovrebbe mettere naso diciamo così qual è la reazione fondamentale della chiesa cattolica soprattutto con i testi del concilio di trento è esattamente quello di ribadire con grande forza la centralità delle figure vocazionali di speciale consacrazione vale a dire appunto la figura del presbiterio del presbiterato la figura del sacerdozio ministeriale e che ha il compito di elargire al popolo di dio la grazia soprattutto dei sacramenti e la vita religiosa come indicativa del compimento escatologico del percorso umano antropologico ovviamente il concilio di trento per il contesto fortemente polemico parlerà molto meno diciamo della soggettività battesimale che invece la tradizione luterana tendeva a usare in senso anti gerarchico questa è una delle motivazioni per cui di fatto la figura del battezzato nell'ambito della teologia post tridentina sarà in qualche modo tacitato non messo a tema mentre l'idea della consacrazione speciale e del sacerdozio ministeriale andranno a costituire la figura vocazionale fondamentale questo evidentemente il primo grande evidente passaggio diciamo nella modernità quindi una chiesa che si baricentra sulle figure vocazionali particolari mentre diciamo mette a tema molto meno la figura vocazionale laicale e battesimale un motivo ulteriore è che questo processo diventa anche il processo di secolarizzazione e che possiamo sintetizzare con le parole del filosofo canadese chas taylor soprattutto diciamo nella nei primi nella prima fase della modernità in questi termini gli spazi pubblici sono svuotati di dio o di qualsiasi riferimento alla realtà ultima cosicché le norme i principi che seguiamo le deliberazioni in cui ci impegniamo allorché operiamo all'interno delle diverse sfere di attività economica politica culturale educativa professionale ricreativa in genere non fanno più riferimento a dio o alle credenze religiose ecco allora che la struttura vocazionale della chiesa nella modernità appunto si baricentra sulla figura del clero come dispensatore della grazia e la vita religiosa come indicatrice della meta escatologica qui ho messo una bella immagine delle nostre sorelle consagrate perché perché in questo momento la vita religiosa deve nella chiesa essere in qualche modo il simbolo del congedo della chiesa dal mondo che diventa sempre più mondano ecco perché la vita religiosa si caratterizza dal cinquecento dal seicento con forti elementi separativi rispetto al mondo anche nell'abito stesso dei religiosi e delle religiose su un abito che segna la separazione che segna il distacco diventando come il simbolo del congedo della chiesa dal mondo che diventa sempre più mondano e da qui al rischio anche di una figura passiva del battezzato non come di un soggetto ma di uno che man mano diventa cliente della chiesa e non invece portatore di una soggettività propria e da qui si può anche notare l'ambiguità del senso della parola laico nella modernità nel medioevo sappiamo anche poi dagli studi successivi che farà il con gara cui tra poco farò un accenno che di per sé la parola laico laicos andava a identificare il membro del popolo di dio laicos laos membro del popolo di dio nella modernità sappiamo che questo è uno degli stravolgimenti semantici più profondi perché nell'epoca moderna essere laico non vuol dire essere membro del popolo di dio ma in qualche modo va ad indicare una scuola laica un partito laico una società laica vuol dire una società che si concepisce nelle cose pubbliche et si deus non daretor come iniziano a dire i gius naturalisti nel seicento no come se dio non ci fosse quindi un concetto di società un concetto di cultura un concetto di res pubblica un concetto di natura di ragione che deve agire autonomamente indipendentemente dall'esperienza religiosa quindi diciamo le separazioni si confermano a vicenda no i religiosi devono in qualche modo garantire il distacco dalla modernità e la modernità afferma esattamente la sua indipendenza dall'esperienza religiosa questa in qualche modo è la configurazione ovviamente rigidamente e frettolosamente presentata che diventerà un po' l'eredità fino di fatto ad arrivare agli inizi del novecento e alla preparazione del concilio vaticano secondo ora però noi arriviamo al concilio vaticano secondo con dei grandi movimenti che in qualche modo tendono a mettere in discussione questa pesante separazione come modernità come tra l'esperienza della fede e il percorso antropologico che come si può capire complica notevolmente l'idea di un soggetto educativo cristiano che sia in grado di trasmettere la fede esattamente nelle circostanze comuni dell'esistenza perché invece il soggetto cristiano tende a concepirsi nelle sue figure emblematiche nel modello della separazione mentre l'esperienza antropologica si concepisce in termini di autonomia rispetto all'esperienza cristiana ora che cosa abbiamo diciamo man mano che si avvicina al concilio vaticano secondo si vede l'esigenza di andare a riconquistare o meglio a ritrovare il nesso con la realtà di cui si è perduto il rapporto fondamentale e qui abbiamo delle diciamo due movimenti molto interessanti da una parte dalla stessa figura del clero e dalla vita religiosa nascono delle forme che tendono a rendersi plausibili nell'ambito laicare quali sono queste forme nella vita religiosa lo sappiamo benissimo è la nascita degli istituti secolari cioè la nascita di quelle forme di consacrazione di persone che professano i consigli evangelici ma non smettono di essere laici quindi vogliono vivere la capite vuole vogliono far saltare il regime di separazione no vivere i consigli evangelici ma assumendo la secolarità come ingrediente della stessa consacrazione la chiesa riconosce per la prima volta gli istituti secolari nel 1947 quindi siamo un bel po prima del concilio dall'altra parte un grande movimento soprattutto diciamo in francia ma poi che si estende in modo diverso è l'idea del prete operaio come vedete da tutte e due le parti sia dal punto di vista del clero che dal punto di vista della consacrazione nascono a livello carismatico delle forme che tendono a recuperare il rapporto con ciò che era andato perduto quindi con la struttura laicale dell'esistenza in fondo la figura del prete operaio che cosa voleva affermare che appunto la figura del prete poteva essere pertinente alla condizione comune delle persone come ad esempio la condizione operaia nella quale si sentiva ormai diventata estranea la presenza cristiana e poi abbiamo il grande recupero anche a livello teologico la teologia del laicato cioè mettere a tema teologicamente la figura del laico il congar questo grande teologo domenicano insieme a molti altri lancia negli anni 50 mettendosi in ascolto anche delle realtà ecclesiali nuove l'idea di una teologia del laicato cioè in fondo il suo pensiero è la maggior parte delle persone che vivono nel popolo di dio non è né prete e né consacrata bisognerà dargli un'identità teologica esattamente recuperando in sede teologale l'ambito in cui la maggior parte dei cristiani vive che è la società laica allora qui nasce l'idea fondamentale dell'indole secolare del cristiano laico cioè colui che si santifica santificando il mondo non scappando dal mondo non congedandosi dal mondo ma assumendo il mondo nel suo dramma nella sua condizione condivisa al di là poi di tutte le difficoltà delle varie formule come adesso accenerò anche nell'ambito subito dopo il concilio Vaticano II fu un'idea fondamentale cioè il cristiano laico non è colui che si santifica nonostante il fatto che deve rimanere nel mondo ma esattamente l'incontrario cioè assumendo l'indole secolare cercando cioè di ordinare a dio le realtà terrestri quindi mentre rimane diciamo lo specifico del clero la distribuzione della grazia attraverso i sacramenti rimane proprio della vita religiosa all'indicare la mente scatologica occorre però recuperare in modo cristiano la figura del laico che non può essere semplicemente colui appunto che si muove et si deus non da retur come se dio non ci fosse perché se il laico è semplicemente questo allora chiaramente non ci sarebbe più uno spazio teologale per vivere il battesimo invece il grande recupero vivo la mia fede non nonostante il mio non essere religioso ma proprio assumendo la condizione comune degli uomini e poi bisogna dire anche dal punto di vista anche delle aggregazioni ecclesiali i grandi movimenti e associazioni che nascono intorno a questi decenni che cosa hanno qual è il come dire la carta fondamentale che giocano esattamente la riscoperta del battesimo e la riscoperta della dimensione carismatica all'interno della chiesa non limitatamente alla vita religiosa ma esattamente il rapporto con la vita battesimale poi le associazioni le aggregazioni i movimenti ecclesiali possono stare più o meno simpatici sta di fatto che la loro carta vicenda è stata questa cioè la riscoperta della del battesimo come soggettività e non il laico cristiano non come un cliente all'interno della chiesa questo è stato il grande i grandi movimenti associazioni a partire da quelle più antiche quindi anche dall'azione cattolica fino a rimari i movimenti più contemporanei in fondo il punto fondamentale era riscopriamo il battesimo come soggettività e quindi la laicità come ambito in cui vivere il battesimo e non come luogo nonostante il quale vivere il battesimo andiamo subito alla questione del vaticano secondo facendo una presentazione sintetica della rivoluzione diciamo così tra virgolette una discontinuità nella continuità intorno alla figura della chiesa della visione della chiesa come popolo di dio come comunione appunto dove sono presenti in rapporto stretto le diverse figure vocazionali per presentare questo la cosa migliore è farvi vedere diciamo la logica che sta dietro al testo fondamentale a questo proposito che sicuramente la costituzione dogmatica sulla chiesa lumen gentium di fatto già basta far scorrere i capitoli e vedere perché sono collocati in quella modalità per cogliere qual è l'immagine di chiesa che emerge dal dibattito conciliare un modo per presentare sapete che i capitoli della lumen gentium sono otto ma come dicono diciamo i teologi che hanno studiato profondamente la struttura di questo documento in realtà ci troviamo di fronte a quattro distici cioè a quattro tematiche che vengono presentate in modo duplice il primo distico cioè i primi due capitoli vanno a identificare l'immagine fondamentale della chiesa il primo capitolo è infatti l'identità profonda trascendente della chiesa cioè la chiesa come mistero e qui ritroviamo tutte le immagini fondamentali della chiesa come sposa come corpo di cristo nella sua dinamica costituzione la chiesa come sacramento di unità di genere umano tutte queste che sono le affermazioni fondamentali che fanno della chiesa il mistero il secondo capitolo come dire mette in evidenza la dimensione storica di questo mistero che è la realtà della chiesa cioè la chiesa come popolo di dio e che cosa sta al cuore del secondo capitolo della lumen gentium quando la chiesa parla della chiesa parla di se stessa come popolo di dio e soprattutto questo sarà importantissimo oggi sotto il pontificato di papa francesco perché questo è uno degli elementi più recuperati dal concilio vaticano secondo cioè la l'ecclesiologia di popolo che cosa si intende sotto questo al di là di tutte le riduzioni sociologiche che sono state fatte sotto il concetto di popolo in realtà c'è esattamente il recupero della soggettività battesimale se voi leggete il capitolo secondo della lumen gentium è tutto sul valore del battesimo in grado di fare dei credenti un vero soggetto che cammina nella storia popolo vuol dire la comunione del popolo nella storia quando parliamo della chiesa come comunione parliamo appunto di un soggetto sacramentale quando parliamo della chiesa come popolo parliamo della comunione organica di figure diverse radicate nell'elemento battesimale che attraversa la storia non che scappa dalla storia ma che assume la storia come suo compito specifico poi il secondo potremmo dire la struttura della chiesa il secondo distico e qui abbiamo i due capitoli fondamentali notate bene il terzo capitolo è dedicato alla gerarchia nella chiesa la struttura gerarchica della chiesa dove si parla delle differenze tra il sacerdozio ordinato e quello comune cioè quello battesimale e si presentano i tre gradi dell'ordine diaconato presbiterato e episcopato notate bene cioè il concilio mette a tema la struttura gerarchica della chiesa il sacramento dell'ordine solo dopo aver messo a tema il battesimo e questa è la grande risposta che il concilio fa alla questione tra lutero e il concilio di trento cioè di affermare che non sono in contrapposizione l'affermazione fondamentale del battesimo e la struttura gerarchica della chiesa certo il battesimo viene prima costituisce l'identità del popolo di dio ma questo perché ci sia un popolo sacerdotale c'è bisogno che qualcuno viva la chiamata a vivere il sacerdozio presbiterale a servizio del sacerdozio comune e da qui allora la specificazione del cristiano laico qui è chiaro che la parola laico come dire viene riconquistata nel suo valore fondamentale non solo come membro del popolo di dio ma come quel membro del popolo di dio che vive esattamente immerso nelle condizioni comuni dell'esistenza è lì dove siamo chiamati a vivere il nostro battesimo assumendo la condizione laicale cioè la condizione che condividiamo con tutti gli altri nostri fratelli uomini quindi in qualche modo il concilio fa propria la posizione di congar quella appunto dell'indole secolare uno si aspetterebbe che allora subito dopo si parlasse dei religiosi no battesimo gerarchia laici religiosi e invece no si introduce un ulteriore distico che è quello dedicato alla missione propria della chiesa e qual è la missione propria della chiesa e qui c'è il famoso capitolo quinto potentissimo a mio parere credo che dopo ormai oltre 50 anni della chiusura del concilio probabilmente il capitolo quinto della lumengenzium è di fatto il più importante che cosa va affermare va affermare l'universale vocazione alla santità di tutti i fedeli in qualsiasi stato di vita si trovino questa è l'essenza del cristianesimo è la santificazione della persona la santificazione del popolo la santificazione del mondo cioè la comunicazione effettiva dell'amore rivelato in cristo si può dire che per la lumengenzium la parola santificazione essere santi vuol dire essenzialmente vivere la vocazione universale all'amore che cristo è venuto a rivelare con la sua incarnazione morte e risurrezione quindi non c'è nessuno stato di vita nella chiesa che non sia stato di santificazione stato in cui vivere fino in fondo il battesimo vivere fino in fondo la chiamata ad essere figli e figlie di dio chiamata ad essere portatori della gioia del vangelo portatori dell'amore che cristo è venuto a comunicare ed è solo a questo punto che si parla anche della vita religiosa il capitolo sesto qui c'è una struttura molto interessante cioè di fatto si fa precedere questo capitolo quinto alla trattazione sulla vita religiosa proprio per identificare la vita religiosa come una vocazione particolare a servizio della vocazione universale che è quella della santità quindi la vita religiosa non è una vocazione che va oltre il battesimo che va oltre i comandamenti come se ci fossero come se ci fosse un cristianesimo a due velocità unica e radicale è la vocazione di tutti che quella battesimale ma c'è una vocazione particolare quella della vita religiosa che è a servizio della vocazione universale alla santità e da ultimo la meta della chiesa l'indole scatologica del popolo di dio anche questo interessante perché l'indole scatologica che era tradizionalmente attribuita solo alla vita religiosa di fatto il concilio lo dilata a tutto il popolo di dio è la stessa cosa che ha fatto con la santità di fatto la vita religiosa era in qualche modo anche la depositaria o anche un po' diciamo la realtà a cui si delegava la santità all'interno della chiesa perché nella concezione moderna era impossibile diventare santi stando nel mondo che diventa sempre più mondano quindi solo nel congedarsi dal mondo poteva essere possibile un percorso di santità il concilio dice universale chiamata la santità di tutti i fedeli quindi in qualche modo quello che prima era proprio solo della vita religiosa viene attribuita a tutta la soggettività della battesimale persino l'indole scatologica è il popolo di dio che o è un popolo scatologico o non è il popolo di dio e da qui l'indicazione di maria come la figura cristiana compiuta con lei che già pienamente nella meta cui tutti siamo chiamati bene salto la parte diciamo interna all'esegesi dei testi per andare a vedere alcuni elementi del dibattito può sconciliare sul nostro tema subito viene messa a tema la questione del laico in che termini cercando di dire abbiamo parlato dell'indole secolare del cristiano laico va bene ok ma cosa vuol dire dal punto di vista teologico parlare di laicità non posso dire laico come lo ha detto la modernità secolarizzata appunto che il laico è colui che si muove come se dio non ci fosse come si fa a trovare un nesso con la vita della fede pur riconoscendo la giusta autonomia gaudium e spesso questo è eccezionale c'è una giusta autonomia delle realtà terrestri ma dentro l'unico disegno divino per cui autonomia non vuol dire indipendenza dal disegno di dio allora che cosa che cosa fonda diciamo questa indole secolare qui bisogna dire che ancora paolo sesto a dire delle parole molto forti parlando tra l'altro agli istituti secolari va a dire che la chiesa ha un'autentica dimensione secolare avete capito qual è il passaggio che fa paolo sesto la chiesa ha un'autentica dimensione secolare sta dicendo non è esclusiva dei laici l'indole secolare i laici vivono qualche cosa che di per sé è proprio di tutta la chiesa inerente alla sua intima natura e missione la cui radice è nel mistero del verbo incarnato cioè l'indole secolare ha la sua radice nel fatto che il verbo si è fatto carne è il mistero dell'incarnazione che assume il secolo come ingrediente della missione perciò non è un fattore esteriore estrinseco è lo stesso evento cristologico che pone la chiesa non fuori dalla storia ma dentro la storia perciò l'indole secolare ha la sua radice ultima non in una connotazione sociologica ma niente di meno che nel mistero dell'incarnazione è cristo stesso che manda la chiesa nella storia nel mondo sebbene questo si realizzi in modalità diverse ora c'è un tentativo superiore ulteriore che sembra interessante ancora quello di congar che cerca cioè di in qualche modo di passare da una teologia del laicato che adesso sembra diventare ancora una teologia di tutta la chiesa no perché se tutta la chiesa in qualche modo ha un indole secolare tutta la chiesa non deve fuggire dalla storia ma deve assumerla perché perché il verbo di dio che l'ha assunta allora questo è il luogo dove siamo chiamati a vivere il battesimo e la vita cristiana allora c'è un tentativo di diciamo tradurre il concetto di comunione nell'idea di una chiesa tutta ministeriale tradurre stati di vita carismi diversi della chiesa tutte in forme ministeriali qui siamo intorno agli anni 70 questo tentativo di riscrivere tutta la chiesa superando le antiche separazioni degli stati di vita andando a cogliere la parola ministero come una parola chiave che possa in qualche modo riscrivere tutta la realtà ecclesiale questo ha un grande successo anche dal punto di vista pastorale ma incontra anche presto delle difficoltà perché non sempre un carisma può avere una traduzione ministeriale per esempio la vita religiosa qual è il ministero della vita religiosa così diversa diversamente formulata vita contemplativa vita attiva istituti ospedalieri istituti educativi qual è il proprio di un ministero della vita consacrata e soprattutto il rischio che questo possa in qualche modo intorno alla figura laicale provocare una sorta di clericalizzazione del laico cioè dove sembra che la valorizzazione del laico voglia dire trovagli un suo posto all'interno della struttura ecclesiale e qui vorrei ricordare facendo un balzo in avanti quello che dice papa francesco proprio a questo proposito in evangeli gaudium al numero 102 dove si dice anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale perché il problema è comunicare la fede dentro la storia non quello di trovare dei ministeri ecclesiali per tutti all'interno della struttura del popolo di dio politico ed economico si limita molte volte a compiti intra ecclesiali ecco qui papa francesco in questo dice il rischio di una sorta di clericalizzazione delle varie figure ministeriali all'interno della chiesa senza un reale impegno per l'applicazione del vangelo alla trasformazione della società perché il baricentro della chiesa non è la chiesa è la vita di tutti i giorni è lì dove occorre portare il vangelo e la dinamica educativa la formazione dei laici e l'evangelizzazione delle categorie professionali intellettuali rappresentano un'importante sfida pastorale allora questo ci permetterà soprattutto negli anni 80 di ricentrare decisamente la vocazione fondamentale del cristiano nella figura dei cristi fidelis cioè del battezzato e qui diventa veramente una una rivoluzione copernicana anche rispetto alle rigidità della teologia post tridentina dove invece appunto la figura fondamentale era quella del sacerdote o del religioso qui invece siamo di fronte all'affermazione sarà soprattutto fatta dalla cristi fidelis laici è il documento di san giovanni paolo secondo dopo il sinodo sui laici nell'88 dove si dice la figura fondamentale è quella del cristiano laico quando san paolo parla dell'uomo nuovo non parla né del prete né del consacrato parla del battezzato l'uomo nuovo la nuova creatura che deve vivere nel mondo portando il vangelo portando cristo è il battezzato questa è la figura fondamentale le altre saranno figure particolari in aiuto a quella fondamentale allora il problema non è che la figura fondamentale è il religioso la religiosa il prete a cui i laici devono cercare di assomigliare un po' o dare una mano in qualche modo è l'incontrario la figura fondamentale è quella del cristiano laico che vive nel mondo di quello che è sposato della famiglia che assume gli impegni della vita quotidiana il prete consacrato sono figure particolari in aiuto alla vocazione fondamentale che è quella del battezzato che di per sé vive la sua fede nelle comuni condizioni del vivere è lì dove si gioca la sfida dell'esperienza educativa la sfida della comunicazione del vangelo dentro un mondo che sta cambiando non bisogna nemmeno però misconoscere che questo provocherà negli anni 70 negli anni 80 ancora negli anni 90 una certa crisi identitaria nella vita religiosa nella vita consacrata proprio perché in qualche modo il concilio sembra attribuire le categorie che prima erano in un certo senso esclusive alla vita consacrata vengono attribuite alla soggettività battesimale adesso che addirittura si afferma che la vocazione fondamentale è quella del battezzato allora che cos'è la vita consacrata e qui nasce il grande dibattito dal quale secondo me non siamo ancora venuti fuori del tutto cioè la vita consacrata vive un travaglio identitario notevole tra due estremi possiamo così che qui li chiamo da una parte la riduzione della vita religiosa ad essere una variabile facoltativa della vocazione battesimale se c'è bene e se non c'è fa niente anche qualche mio confratello vescovo qualche volta lo dice no la vita religiosa dono bellissimo se non qualcuno dice anche se non c'è ci saranno altri carismi no come è una variabile facoltativa o dall'altra parte invece il ritorno ad affermare una obiettiva eccellenza della vita religiosa rispetto alla vita del cristiano comune un grande dibattito molto forte che segnerà anche la crisi di molte vocazioni quando uno si trova per esempio una grande crisi vocazionali tipo affettivo se uno non ha la consapevolezza che la sua vocazione ha un significato importante irrinunciabile della chiesa di fronte all'attrattiva di fare una famiglia di andare dietro una donna a cui sono innamorato perché mai dovrei fare un sacrificio se fondo questa è una variabile facoltativa molte crisi vocazionali sono attestate così se non c'è più un'identità adeguata perché mai dovrebbe essere degna del sacrificio di una cosa che sento assolutamente desiderabile e spontanea questo proprio attestato nei documenti di richiesta di di esclaustrazione spesso c'è questa richiesta c'è una percezione diciamo non forte della propria identità o dall'altra parte quando si afferma un'obiettiva eccellenza come ad esempio fa il documento vita consecrata allora subito cominciano ad accusare di essere preconciliari perché allora sembra di voler ritornare indietro ad un'immagine di vita religiosa che invece vuole essere affermata io sono del parere di von baltasare il quale in modo molto acuto a mio avviso diceva che tutte le forme di vita cristiana sono eccellenti tutte secondo dal punto dal punto di vista da quella guardi da un certo punto di vista non è la vita consecrata da un altro punto di vista è la vita sacerdotale da un altro punto di vista è la famiglia è il laico dipende dalla prospettiva da cui guardi quello che non bisogna secondare è l'idea di livellare tutte le vocazioni nella chiesa perché questo non genera vita l'appiattimento e l'omologazione non sono mai generative di vita invece accorgi che ogni vocazione ha una sua eccellenza rispetto alle altre questo è un'immagine invece che mi sembra profondamente vitale mentre è assolutamente riduttivo l'idea che la vita consacrata come dire non abbia nulla di peculiare di proprio appunto come una sorta di variabile facoltativa della vocazione battesimale io quando insegnavo il corso di teologia della vita consacrata e arrivavo su questo punto dicevo ai miei uditori ma va bene tutti uguali tutti ho capito però dovete spiegarmi perché il mio amico medico quando va a casa la sera trova sua moglie due bambini io vado a casa e trovo 50 barbe invece che i bambini e la mia moglie sarà un motivo per cui non voglio dire che uno sia più su e l'altra giù ma voglio dire che come dire anche antropologicamente è molto differente o c'è un motivo o se no come faccio a cogliere il significato di una vita anche così evidentemente diversa ecco mi sembra questo importante da recuperare allora andiamo un po verso le ultime cose che vi voglio dire da qui c'è stato anche un grande dibattito appunto allora sulla essenzialità della vita consacrata alla chiesa è essenziale è desiderabile è solo possibile o è necessaria qui c'è un passaggio fondamentale che di solito viene citato in queste circostanze il famoso lumen gentium 44 dove si dice lo stato che è costituito dalla professione dei consigli evangelici pur non riguardando la struttura gerarchica della chiesa appartiene tuttavia indiscutibilmente alla sua vita e santità questo è il passaggio fondamentale che però viene interpretato in due modi dai teologi molto differente c'è un'interpretazione minimalista di questo passaggio e c'è un'interpretazione massimalista interpretazione minimalista è quella che dice certo tutto appartiene indiscutibilmente alla vita e alla santità della chiesa e aggiunge se c'è se non c'è non fa niente invece c'è la visione più massimalista che dice invece è costitutiva del mistero ecclesiale la vita religiosa non è solo una forma nella chiesa ma una forma della chiesa perciò in qualche modo è costitutiva del suo mistero come la figura del laico e come la figura del sacerdozio ministeriale ecco qui le due visioni appunto restrittiva o estensiva vita consecrata dice una cosa molto interessante qui guardiamo solo la colonna di destra dove si dice al punto 29 la concezione di una chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici non corrisponde alle intenzioni del suo divino fondatore quali ci risultano dai vangeli e dagli altri scritti neotestamentari poi c'è un celeberrimo discorso di benedetto sedicesimo ai vescovi brasiliani nel novembre del 2010 che fa un po impressione perché uno dice una visita dell'imina con tutte le cose che il papa poteva dire intorno a questo tema guardate un po' che cosa va a dire ai vescovi brasiliani sappiamo bene cari vescovi che le famiglie le varie famiglie religiose dalla vita monastica le congregazioni religiose e la società di vita apostolica degli istituti secolari nuove forme consegnazione hanno avuto la propria origine nella storia ma la vita consacrata come tale ha avuto origine con il signore stesso che scelse per sé questa forma di vita virginale povere obbediente per questo la vita consacrata non potrà mai mancare né morire nella chiesa anche se le varie forme sì certo è sempre stato così molte forme sono nate poi sono morte sono nate delle altre ma come tale la vita consacrata che ha il compito a me piace dire di ripresentare il soggettivo di cristo cioè la forma soggettiva di vita del figlio di dio fu voluta da gesù stesso come porzione irremovibile della sua chiesa poi un testo veramente centrale questo secondo me riassume in qualche modo tutta l'ipotesi da cui io sono partito in questa mia chiacchierata cioè il soggetto educativo è una comunione di figure vocazionali diverse dove ciascuna è coessenziale questo lo dice in modo molto chiaro cristi fidele slaici al numero 55 che secondo me è un punto ancora per certi aspetti insuperato si afferma innanzitutto che la chiesa come comunione è fatta da stati di vita che sono tra loro così collegati da essere ordinati l'uno all'altro certamente comune e anzi unico è il loro significato profondo quello di essere modalità secondo cui vivere l'uguale dignità cristiana e l'universale vocazione alla santità nella perfezione dell'amore sono modalità insieme diverse e complementari sicché ciascuna di esse ha una sua originale inconfondibile fisionomia ciascuna e nello stesso tempo ciascuna di esse si pone relazione alle altre e al loro servizio quindi ognuna può essere se stessa solo se in rapporto con l'altra forma di vita questa è l'idea della chiesa come mistero di comunione e questo vale esattamente applicata al processo educativo cioè ognuna delle componenti del soggetto educativo ha bisogno dell'altra per esercitare la propria il proprio compito la propria missione arrivando poi anche a definire diciamo così i tre stati di vita lo stato di vita laicale ha nell'indole secolare la sua specificità e realizza un servizio ecclesiale nel testimoniare nel richiamare a suo modo anche ai religiosi ai sacerdoti alle religiose il significato che le realtà terrestri temporali hanno nel disegno salvifico di dio a sua volta il sacerdozio ministeriale rappresenta la permanente garanzia della presenza sacramentale nei diversi tempi e luoghi di cristo redentore lo stato religioso testimonia l'indole escatologica della chiesa questo è interessante non testimonia una propria indole escatologica cioè il compito di rappresentare qualcosa che è di tutti questo è veramente la comunione ecclesiale dove cioè a qualcuno è dato il compito di esprimere qualcosa che riguarda tutti non di esprimere qualcosa di suo ma ha il compito di ripresentare nella chiesa qualcosa che riguarda tutti ossia la tensione di tutti la tensione di tutti non solo dei religiosi verso il regno di dio che viene prefigurato in qualche modo anticipato e pregustato nei voti di castità povertà e obbedienza un nota bene in particolare sulla questione della del soggetto famiglia come parte costitutiva del soggetto comunionale preposto alla educazione ovviamente il discorso sarebbe lunghissimo enorme io qui sottolineo solo una cosa fondamentale diciamo il percorso che si è realizzato da familiaris consorzio a amoris letizia rispetto alla concezione sacramentare del matrimonio proposto dalla teologia post tridentina la quale come accennavo prima doveva rispondere all'obiezione di lutero il quale diceva che il matrimonio di per sé non è sacramento mentre il concilio di trento afferma il primato della verginità ma afferma il sacramento del matrimonio il matrimonio come sacramento però dando origine nella teologia barocca all'idea del matrimonio in che modo come ad una realtà naturale a cui si aggiunge la grazia del sacramento cioè una figura sostanzialmente estrinseca da una parte il fondamento del matrimonio è nella natura nella distinzione uomo donna non c'era ancora la teoria del gender quindi era percepita come realtà sufficientemente naturale fondativa la differenza sessuale il sacramento in fondo si aggiungeva come dall'esterno a qualcosa che fondamentalmente era già sufficientemente fondato nel fatto naturale quindi il matrimonio era sentito come una realtà naturale elevata successivamente a sacramento dalla grazia cristologica questo è il motivo per cui nella chiesa si è parlato pochissimo del matrimonio come di vocazione mentre si è sempre parlato di vocazione per l'essere sacerdote e per l'essere consacrato consacrata questo è quello che papa francesco ha fatto radicalmente saltare con i due sinodi una delle affermazioni per me radicali di amore e slidizia è quando dice che il matrimonio è una vocazione propria perché ha il suo fondamento non nella natura umana ma nel rapporto tra cristo e la chiesa questo fa del matrimonio una vocazione dentro cui riprendere anche la differenza tra l'uomo e la donna ma il fondamento del matrimonio come vocazione non è un dato naturale ma il dato cristologico del rapporto cristo chiesa in vista del quale l'uomo è stato creato maschio e femmina proprio in vista dell'evento cristologico come evento sponsale come evento nuziale questo che cosa comporta questa è l'altra grande affermazione che viene fatta in modo sempre più radicale da familiare sconsorzio ad amoris letizia che la famiglia è il soggetto fondamentale di pastorale e di educazione proprio per vocazione propria non per accidents per cui la famiglia è costitutiva del mistero ecclesiale senza famiglia non c'è chiesa e non c'è esperienza educativa questo vuol dire assumere fino in fondo nella comunione di vocazioni diverse come unico soggetto educativo pastorale vuol dire che il ruolo chiave deve essere assunto dalla famiglia come soggetto fondamentale di vita cristiana e perciò di evangelizzazione questo è fondamentale nella logica come dire separativa che ha condizionato il cristianesimo nella modernità quello di cui era partito paolo sesto il dramma del nostro tempo la separazione tra la fede e la vita tra il vangelo e la cultura chi può farti vedere sul campo dell'esistenza che la fede centra con la vita che il vangelo centra con la cultura cioè con i valori fondamentali con cui istituisci la vita sociale la vita familiare non innanzitutto il prete la suora il frate è la famiglia che ti fa vedere proprio perché è l'intreccio fondamentale dell'umano degli affetti del lavoro del riposo dove si nasce dove si cresce dove ci si ammala dove si devono affrontare i problemi dove magari uno perde il lavoro e devi vedere come essere solidare con quello della tua famiglia dove c'è uno che muore lì lì la fede si mostra significativa nella realtà nella realtà quotidiana è lì dove si supera la rottura tra il vangelo e la cultura tra la fede e la vita le altre vocazioni sono il potentissimo e umilissimo servizio a questo soggetto educativo a sostenerlo perché viva questa profonda unità ultimo punto papa francesco e la comunione tra gli stati di vita qui vado veramente molto veloce anche perché in qualche modo questi sono anche i testi più noti credo di papa francesco l'ecclesiologia di comunione come un'ecclesiologia del popolo di dio appunto poi abbiamo già detto evangelii gaudio numero 114 essere chiesa significa essere popolo di dio in accordo con il grande progetto d'amore del padre questo implica essere il fermento di dio in mezzo all'umanità vuol dire annunciare portare la salvezza di dio a questo mondo che spesso si perde ha bisogno di avere risposte che incoraggino che diano speranza che diano nuovo vigore nel cammino e poi ci sono diciamo ho messo in serie anche i famosi testi in cui il papa francesco parla radicalmente della chiesa come comunione nella prospettiva missionaria non si può parlare di comunione se non comunione comunicativa missionaria e qui avrete tutti bene in mente il punto 49 dove appunto si parla di chiesa in uscita che non è l'uscita dalla chiesa ma la chiesa in uscita cioè come soggetto missionario che si è chiesa solo se si comunica solo se si è in una tensione comunicativa con una implicazione molto forte io metto sempre in relazione evangeli gaudium 49 con evangeli gaudium 273 dove il papa dice che io sono una missione su questa terra bellissimo la missione non è una cosa da fare è un modo di essere è un modo di abitare il mondo di sentire la vita di sentire il rapporto tra l'uomo e la donna tra i genitori e i figli è il modo di sentire il tempo è il modo di sentire il confratello la consorella la missione non è una cosa da fare è un modo di essere è un modo di esistere che si concepisce mandato da mandato con mandato a questa è la struttura del della comunione missionaria cioè di persone che si concepiscono radicalmente relazionate che missione vuol dire che qualcuno mi manda che mi manda insieme a qualcuno e mi manda qualcuno cioè non si può concepire se stessi se non radicalmente relazionati ecco poi avrei avuto in mente ma adesso il tempo a mia disposizione mi sembra che sta ormai scadendo ancora 10 minuti fantastico allora bevo ancora la vostra salute un goccio d'acqua perché allora vorrei entrare dentro in quello che suggerisce nella visione di questo soggetto di comunione composto da forme vocazionali diverse come soggetto adeguato all'educazione è il tema del carisma che è quello che sotto il pontificato di papa francesco viene indicato dal documento juvenisci ecclesia che è veramente un documento da questo punto di vista molto importante ho visto che papa francesco lo sta riprendendo molte volte di per sé il documento è dalla congregazione per la dottrina della fede dove cioè si va a ripresentare il valore all'interno di questo soggetto dei carismi del carisma della vita religiosa ma che non deve essere confinato solo nella vita religiosa dei carismi delle nuove realtà delle nuove aggregazioni ecclesiali come carismi che devono alimentare questo soggetto secondo dei doni peculiari dello spirito che lo spirito stesso diffonde nella chiesa secondo tempi modi culture storie circostanze società diverse dicevo è un testo di per sé molto atteso noi parliamo di carismi in tutti i modi tutti hanno carismi adesso abbiamo un sacco di fondatori in giro è un periodo che sembra essere veramente molto ricco però non dobbiamo dimenticare che fino a pochi decenni fa la parola carisma era un tabù era un tabù all'interno della chiesa cattolica non solo voi sapete che nel 1983 c'è stato il nuovo codice di diritto canonico che doveva recepire il concilio vaticano secondo in termini canonistici sapete quante volte la parola carisma ritorna nel testo del diritto canonico una è un passant per caso giusto allora c'era bisogno che tutti parlano di carismi e non c'è nulla che regoli faccia capire qual è il ruolo il compito la figura fondamentale soprattutto dei carismi condivisi no quelli della vita religiosa o quelli che coinvolgono per esempio diversi stati di vita questo è un punto fondamentale del documento che mi sembra che anche per un lavoro come il vostro è molto importante cioè l'idea che un carisma possa essere condiviso da stati di vita diversi un carisma può nascere nella vita religiosa ma può rendere anche partecipi dei sacerdoti dei laici lo stesso carisma può muovere la vita cristiana oppure un carisma può nascere più di indole laicale ma può anche generare un'aggregazione poi di persone che si consacrano a dio è molto bello notare come dire la fantasia dello spirito santo che da un carisma in forma condivisa e questo voglio dire lo spirito santo non è che c'ha tempo da perdere quando distribuisce dei carismi nella chiesa ci avrai sui buoni motivi no allora bisogna prendere in considerazione questi carismi non sono non sono facoltativi soprattutto se la chiesa riconosce questi carismi bisogna che la chiesa li riconosca pienamente ecco secondo me il grande la grande bellezza di questo documento iuvenescita ecclesia è che finalmente affronta di petto il tema del carisma di cui peraltro il concilio ne aveva parlato e come adesso segnalano anche dei passaggi però di fatto non erano state prese tutte le implicazioni ecclesiologiche questo documento invece afferma la profonda dignità ecclesiale dei carismi condivisi con i quali la chiesa non può non fare i conti i vescovi non possono pensare alla propria diocesi senza assumere pienamente i carismi che vede che sono presenti sul suo territorio carismi di vita consacrata carismi condivisi nei diversi stati di vita dall'altra parte ovviamente questi carismi dovranno riconoscere la chiesa universale e chiesa locale con beambito in cui mettere a disposizione questo dono e non ovviamente fare una chiesa parallela quindi occorre che ci sia una il documento la chiama coessenzialità tra i doni gerarchici e i doni carismatici in particolare nelle forme condivise il vescovo non può non riconoscere quelli come doni che lo spirito santo gli ha messo davanti agli occhi posso io fare un progetto pastorale senza tenere conto della vita consacrata che ho presente sul territorio dei movimenti delle associazioni dei carismi condivisi io dico uno non sarebbe un buon pastore se non valorizzasse quei doni che lo spirito santo ha suscitato nella chiesa dall'altra parte coloro che si sentono toccati da un carisma condiviso non possono vivere questo carisma se non facendo i conti con la chiesa in cui questo carisma è stato dato quindi vuol dire che vivrò il mio carisma condiviso riconoscendo quella chiesa come la mia chiesa il mio carisma non mi fa una chiesa la chiesa è una e si dà nella chiesa particolare che è quella porzione del popolo di dio che vive in un determinato territorio sotto l'autorità del suo vescovo vuol dire allora che io devo rischiare il mio carisma dentro questa situazione devo rischiarlo devo giocarlo dentro la vita di questa realtà ecclesiale facendo così allora il carisma raggiunge il suo scopo che è quello di fecondare internamente la vita del popolo di dio in quella porzione che ci è stata affidata io qui avevo segnato un po' di cose che mi sembravano interessanti per quanto riguarda diciamo il fatto che la parola carisma diciamoci in verità in tutta la chiesa non è stata in tutta la storia della chiesa non è stata mai molto considerata mentre è molto presente nella sacra scrittura il nuovo testamento tantissimo san paolo in modo particolare ma non esclusivo di fatto poi ci sono stati dei motivi nel senso che è vero che ogni tanto come dire gli spirituali coloro che hanno il rapporto diretto con lo spirito santo si sono sentiti spesso in come dire in autorità di emanciparsi dalla chiesa strutturata dalla vita comune del popolo di dio e questo è un motivo per cui c'è sempre stato un'ombra di sospetto sugli spirituali o diciamo su coloro che in nome di un carisma sono sentiti insigniti di una peculiare identità però credo che su questo davvero anche il concilio ci abbia dato dei passaggi fondamentali richiamo sono tutti testi poi ripresi da Juvenisci d'Ecclesia Lumen Gentium 2, 4 lo spirito dimora nella chiesa e nei cuori dei fedeli la provvede e la dirige con diversi doni gerarchici e carismatici interessante lo stesso spirito che agisce nei sacramenti e che ispira la scrittura è lo stesso spirito che suscita la vita consacrata che suscita i carismi condivisi allora vuol dire che si devono lavorare insieme no? c'è lo stesso spirito che li suscita non si può sentirli contrapposti poi adesso però non mi fermo molto interessante è Lumen Gentium 12 ad esempio dove proprio si dice lo stesso spirito che agisce nei sacramenti muove il popolo di Dio dal di dentro poi Lumen Gentium 12 ha questa bella sensibilità perché ci fa capire che in un certo senso i doni gerarchico-sacramentali hanno una loro stabilità dentro la vita della Chiesa l'Eucaristia è l'Eucaristia poi si fa la riforma del rito ma l'Eucaristia è l'Eucaristia la parola di Dio non è che posso dire adesso aggiungo un libro di più tolgo qualche libro che questa pagina non mi piace no ha un carattere oggettivo la struttura sacramentale della Chiesa è anche la parola di Dio invece i carismi lo spirito li suscita dentro le diverse circostanze della vita la vita consacrata da questo punto di vista è uno spettacolo nasce il movimento benedetto guarda caso proprio nel momento in cui sta saltando l'impero romano e c'è bisogno di nuova capacità aggregativa intorno al venir meno delle istituzioni fondamentali e poi a un certo punto quando invece si sposta dal medioevo feudale al medioevo dei comuni sorge un carisma in cui sorgono delle forme mendicanti dove invece di stare in monastero e aspettare che la gente vada in monastero cominciano loro ad andare dove va a vivere la gente e poi nel 500 cominciano nuove aggregazioni missionarie le nuove congregazioni che cominciano ad andare in giro per il mondo fino ad arrivare appunto agli istituti secolari e alle ultime forme di vita consacrata è impressionante che lo spirito cioè susciti dei carismi che facciano reagire la circostanza con il Vangelo cioè i carismi ti fanno capire la pertinenza del Vangelo con la circostanza storica che sta cambiando questo è un delitto non sostenere i carismi ovviamente bisogna fare il discernimento e nella chiesa c'è un'istituzione deputata apposta per fare il discernimento però bisogna farlo e poi bisogna i carismi non vanno preservati i carismi vanno rischiati dentro la storia perché sono dati per questo per far capire la pertinenza del Vangelo di sempre con la circostanza storica con il dramma storico che la chiesa si trova a vivere nei diversi momenti e nelle diverse situazioni della sua esistenza e qui molto bello l'apostolica Mactuositatem ad esempio che dice nell'avere ricevuto questi carismi anche i più semplici attenzione bene sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli questa è una frase potentissima che nessuno si ricorda mai ma l'ha detto il Concilio Vaticano II dall'avere ricevuto questi carismi sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitare questi carismi in comunione con tutta la chiesa mai come chiesa parallela assolutamente in comunione con tutto il mistero perché ti è stato dato per la chiesa non ti è stato dato per te la vita religiosa è per la chiesa non è per se stessa le aggregazioni ecclesiali in base a carismi condivisi sono per la chiesa non per loro stessi perciò occorre osare di rischiare il carisma dentro la vita quotidiana della chiesa adesso mi sembra che il mio tempo però sto andando proprio verso la fine quindi queste cose qui le ho già un po' dette volevo ricordarvi questa frase ancora di Papa Francesco che mi sembra molto interessante quando afferma che lo Spirito Santo apparentemente sembra creare disordine nella chiesa perché porta la diversità dei carismi dei doni ma tutto questo invece sotto la sua azione è una grande ricchezza perché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità che non significa uniformità ma riconduce ricondurre il tutto all'armonia e qui cita dice uno dei padri della chiesa ha un'espressione che mi piace tanto lo Spirito Santo ipse armonia est ancora adesso non si è capito qual è questo padre della chiesa ci hanno provato in tutti i modi ma non sono ancora forse Gregorio di Nissa si dice che è uno dei grandi padri della Cappadocia che hanno la pneumatologia più spiccata ma diciamo è interessante il Papa che ha sentito questa frase però molto significativa è lo stesso Spirito che crea le differenze è lo stesso Spirito che poi è capace di far vivere queste differenze come edificazione dell'unità niente su questo ormai il salto ve le lascio per se volete approfondire appunto il carisma allora è ciò che permette alla chiesa permette alla grazia sacramentale di portare frutto nel singolo e nella comunità credente perché ti fa capire che cosa c'entra il Vangelo con questa situazione che adesso stai vivendo così San Benedetto così San Francesco così San Giovanni Bosco hanno fatto capire il Vangelo è un carisma che ti fa per questo giustamente Papa Benedetto diceva che la vita religiosa ma tutti i carismi sono una esegesi vivente della scrittura non esegesi per studio storico critico ma un esegesi vivente perché te la fa reagire con la circostanza problematica presente allora il carisma ha la capacità di esplicitare quello che è implicito nel battesimo te lo fa tirare fuori cioè attraverso un dono peculiare ti fa approfondire l'identità battesimale bene qui c'era ancora il tema del carisma degli stati di vita però l'ho già accennato ed è soprattutto in Juvenesci Tecclesi al numero 22 dove appunto si dice quello che già ho detto in sintesi prima cioè che ci sono carismi suscitati dallo spirito a cui si può partecipare essendo in stati di vita diversi questo carisma dice questo testo rende capace ciascuno di vivere meglio il proprio stato di vita l'efficacia di un carisma si capisce perché ti fa vivere meglio il tuo stato di vita allora da cosa si capisce che questo carisma fa bene alla tua famiglia perché ti fa vivere la famiglia meglio non perché ti fa vivere meglio gli incontri della tua aggregazione ecclesiale non è questo il punto di verifica ma è che vivendo quel carisma tu vivi meglio la tua realtà familiare impari a vivere meglio la tua vocazione familiare impari a vivere meglio il tuo sacerdozio ministeriale impari a vivere meglio la tua consacrazione e quindi questo davvero ci costituisce come un unico soggetto conclusione sono arrivato alle conclusioni allora il soggetto dell'educazione è la comunione tra stati di vita diversi il battesimo e la famiglia sono condizione fondamentale dell'educazione senza famiglia non c'è chiesa il sacerdozio ministeriale rappresenta l'oggettivo di Cristo cioè ciò che Cristo ha realizzato e che attraversa tutti i tempi nella struttura gerarchico-sacramentale la vita dei consigli evangelici indica il soggettivo di Cristo cioè il cuore di ogni dimensione carismatica che rilancia l'ideale dell'umanità di Cristo dentro le condizioni della vita che continuamente cambiano i carismi condivisi sono coessenziali alla vita della Chiesa come dono dello Spirito che persuade la libertà all'adesione del Vangelo che mi fa vedere l'attualità del Vangelo il carisma San Giovanni Bosco fa vedere l'attualità del carisma declinando l'attualità del Vangelo declinandolo nella questione educativa che è la questione fondamentale allora adesso proprio concludo con questa citazione di Papa Francesco tratta dal 2 febbraio del 2016 cioè la chiusura dell'anno della vita consacrata con una affermazione forte sul valore dei carismi di vita consacrata ma appunto carismi condivisi che possono animare e debbono animare tutto il popolo di Dio come cristiani e come persone consacrate siamo custodi dello stupore uno stupore che chiede di essere sempre rinnovato guai all'abitudine della vita spirituale guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina strata i carismi dei fondatori come ho detto altre volte non sono da sigillare in bottiglia non sono pezzi da museo dicevo prima i carismi non sono da preservare sono da rischiare i nostri fondatori sono stati mossi dallo spirito e non hanno avuto paura di sporcarsi le mani con la vita quotidiana cioè la circostanza i carismi ti portano proprio a sporcarti le mani con la vita quotidiana con i problemi della gente percorrendo con coraggio le periferie geografiche ed esistenziali non si sono fermati davanti agli ostacoli all'incomprensione degli altri perché hanno mantenuto nel cuore lo stupore per l'incontro con Cristo non hanno addomesticato la grazia del Vangelo hanno avuto sempre nel cuore una sana inquietudine per il Signore un desiderio struggente di portarlo agli altri credo che il segno di un autentico soggetto comunionale dell'educazione sia coltivare sempre nel cuore questa sana inquietudine di portare Cristo agli altri qui e adesso grazie 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 a tutti